Ruspe ed escavatori al lavoro all'Aquila è partito in maniera ufficiale il cantiere che farà cambiare volto a Piazza Duomo nell'area lavori sopra il luogo del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, assieme al suo vice Raffaele Daniele, al prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco e dai responsabili della ditta esecutrice dei lavori. Pietra bianca, rosa e grigia le scelte cromatiche per la nuova pavimentazione e ci sarà anche un riassetto degli spazi della piazza. Un anno la durata stimata per concludere le operazioni che saranno divise in quattro step successivi per garantire comunque una fruibilità parziale di Piazza Duomo. 4 milioni e mezzo di euro l'importo dei lavori. Ci sarà prima il lotto che riguarda il lato a destra scendendo, quello in cui ci troviamo adesso, dopo verrà fatto l'altro lato e poi ci concentreremo invece sulla parte centrale, sono circa 4 milioni e mezzo di importo lavori, la durata è stimata in un anno, sui marciapiedi si interverrà invece la notte, verranno smontati e poi quando le condizioni lo consentiranno verranno rimontati. E' uno degli interventi più importanti che riguarda la città dell'Aquila perché è il cuore stesso della città, con l'avvio dei lavori anche del Duomo si completa almeno questo pezzo di territorio e naturalmente ci sarà qualche disagio, però immidiamo tutti alla comprensione, alla collaborazione perché al termine dei lavori questa sarà una delle piazze più belle d'Italia. Un altro tema è quello del recupero dei lampioni storici. Sì, noi recupereremo tutto, la scelta architettonica prevede la sostituzione dei corpi illuminanti, comunque i lampioni verranno smontati, verranno verificati, naturalmente ne verrà verificata la funzionalità e l'adeguatezza alle norme correnti e le riutilizzeremo, così come riutilizzeremo tutti i cubetti di porfido negli interventi che sono programmati in giro per la città.